Miei Padovan, bentornati sul canale YouTube Unbounce. Io sono Emilio Valotti, qui per parlarvi oggi di questo bel volume, i racconti, volume 1, che contiene diversi fumetti. Oggi parleremo soltanto del primo, Estinzione, scritto da Ron Mars, disegnato dall'autore italiano, dal fumettista italiano Claudio Castellini. Ed io, vuoi che ci sono tanto affezionato a queste pubblicazioni, perché sono della Dark Horse Comics del 1998, quindi sono i fumetti con cui sono cresciuto. Tuttavia, anche senza nulla togliere le nuove pubblicazioni, c'è da dire che queste hanno dei colori, secondo me, migliori. Esprimono dei concetti tramite immagini che sono fantastici. E i dettagli, come starete vedendo dalle tavole, sono incredibili. Quindi io ci sono molto affezionato a questi numeri che vi ricordo sono Legends, ma secondo me è giusto argomentarli, è giusto portarli sul canale. Inoltre, questo bel volumone edito da Panini, secondo me è fantastico. E spero che questi video vi aiutino a comprenderlo, vi aiutino ad avvicinarvi e magari, perché no, ad acquistarlo. Ma andiamo con la sigla! La trama di estinzione è molto semplice, direi che è piuttosto banale. Siamo all'incirca 1 BBY 0 poco prima di episodio 4 Una Nuova Speranza e Darth Vader arriva su Coruscant. E quando arriva, già gli ufficiali non se lo aspettano, iniziano un po' a balbettare. Lord Vader, non sapevo che stesse arrivando. E nel vederlo passare, già si mette la mano al collo, perché teme che il Lord Exit possa strozzarlo. Già questa immagine, già questo ingresso, per me è fenomenale. Perché, come vi dicevo, da una tavolozza si trasmette il potere e il timore che il Lord Exit, la sua aura oscura, lascia attorno a sé. Tutto lì è stato chiamato dall'imperatore Palpatine. Siamo su Coruscant e vediamo nel 98, in per l'appunto, nelle pubblicazioni che erano Dark Horse Comics, vediamo quanto il palazzo imperiale su Coruscant, che nel canon poi è diventato esattamente il Tempio Jedi, vediamo quanto già allora la stanza dell'imperatore richiami quella della seconda morte nera, in Star Wars, episodio 6, il ritorno dello Jedi. E Palpatine ha fatto chiamare perché Darth Vader, siccome non ci sono gli inquisitori, è lui che deve sterminare, che deve uccidere i Jedi rimasti. Perché la paura di Palpatine, qui siamo nel Legends, ma è un po' una paura che aveva anche nel canon, è che la ribellione, le cellule ribelli, la nuova alleanza ribelle, potesse usare gli ultimi Jedi rimasti come simbolo. E ne è stato trovato uno. Una ancora viva, ma non l'ha trovata Darth Vader. L'ha trovata alla mano dell'imperatore, Mara Jade, che in questo numero fa una fugace apparizione. Ha una leggera discussione con Darth Vader su chi dei due andrà a uccidere questa misteriosa donna, chiamata la Donna Oscura. Una vecchia conoscenza scopriamo di Darth Vader, di Anakin Skywalker. E alla fine l'imperatore ci riflette su. Deve assolutamente stirpare alla radice la minaccia dei Jedi. Quindi manderà il suo adepto più forte, quello che ha più conoscenza del lato scuro e che ha già affrontato, ha già ucciso un Jedi, ovvero Darth Vader. E quando l'imperatore glielo dice, vai tu che hai già ucciso un Jedi, il sottotesto è che ha anche ucciso Anakin Skywalker. E questa tematica tornerà perché il titolo Estinzione, per come rappresentato in questo numero, è tutto molto forte, perché parla di l'estinzione di una pianta, che vedremo poi su questo pianeta in cui avviene lo scontro, l'estinzione dei Jedi, ma anche in qualche modo l'estinzione del lato chiaro presente in Darth Vader. Però la simbologia che evoca nel testo e nelle immagini per me è molto forte, perché richiama anche il ritorno, la rinascita, il tornare alla luce di Anakin Skywalker, quindi il ritorno dello Jedi, che vedremo nel sesto episodio. Darth Vader raggiunge quindi la donna oscura su Capirigi 5. E questa donna oscura in realtà il suo nome è Anya Kuro, ed era un personaggio che nei fumetti Dark Souls Comics del 1998-1999 era apparsa in qualche numero, quindi nei numeri sparsi Star Wars, se è stata principale, era già apparsa. E qui la vediamo in tenta tra la vegetazione, che sta curando delle piante. Delle piante, come vi dicevo, in via distinzione. Darth Vader arriva alle sue spalle e c'è un ottimo dialogo, perché lei sa bene che lui è Anakin, come lascia capire benissimo che l'imperatore è un Sith, e lei lo sa, lo chiama Palpatine, il suo maestro. E quindi c'è questo dialogo con una consapevolezza, che in realtà nel canon non c'è, perché nel canon, ricordiamolo, Palpatine ha fatto finta che i Sith fossero uno spauracchio, uno spaventapasseri riesumato dai cavalieri Jedi per causare una guerra civile e quindi tramite le guerre dei cloni tintare al colpo di stato che poi è fallito. Quindi nel canon nessuno, pochi eletti, pochi circoscritti, i Sith Eternal sanno che Palpatine è il signore oscuro dei Sith Darth Sidious. Tutti gli altri sono convinti che lui sia un umano, un politico, giusto, il politico che non solo ha messo fine alle guerre dei cloni, ma ha messo fine all'inganno dei Jedi, ed è un umano per loro, quindi manco sensibile alla forza, è riuscito contro questo potente nemico che in seno alla galassia stava cercando di avvelenarla. Minzogne. Mentre qui nel Legends vediamo che molti, non solo Darth Vader, ma molti altri, anche i suoi avversari, sanno che lui è un Sith ed è imperatore. Quindi questa donna oscura parla a Darth Vader e gli fa notare come in questo luogo anche i fiori, quelli in via d'estinzione, spesso si credono annientati, credono scomparsi, ma in luoghi più remoti, nei luoghi più lontani, in realtà cominciano a ricrescere e un giorno fioriranno. Ciò è bellissimo perché in qualche modo richiama a quello che i Jedi fanno, la loro estinzione. Palpatine li crede estinti, cerca di sopprimerli, però in luoghi remoti, Tatooine, Obi-Wan Kenobi, Dagobah Yoda o lo stesso Luke Skywalker, sempre su Tatooine, in qualche modo stanno germogliando, non sono istinti, quindi un giorno fioriranno una nuova speranza, un anno circa dopo questo fumetto, ecco che la luce di Luke comincerà a brillare, ecco che tornerà a splendere. E la donna oscura fa notare a Darth Vader che anche dentro di lui c'è forse questa luce, questo germoglio che potrebbe un giorno rifiorire, e lascia intendere che Darth Vader lo sappia. Tu Darth Vader, l'or dei Sith, sai di questa luce, cerchi di sopprimerla, ma nonostante l'hai nascosta nei reconditi della tua poco umanità, perché sei più macchina che uomo, nonostante tu l'abbia soppressa lì sotto, prima o poi potrebbe riemergere. Ed è un collegamento forte anche qui al ritorno dello Jedi, a quando Anakin riemerge grazie all'amore di suo figlio, tentando di salvarlo da morte certa, cosa che con Padme non era mai riuscito. Scoppia quindi uno scontro, anche qui secondo me le tavolozze sono fantastiche, in cui il colore riesce ancora una volta a trasmettere sia l'emotività dei personaggi, ma anche a creare col mantello di Darth Vader un contrasto lato chiaro e lato scuro, in cui l'oscurità sono proprio gli indumenti dell'or dei Sith. E qui vediamo che l'or dei Sith è convinto di essere più potente, perché il lato scuro lo rende potente, ma la donna oscura, gioco di parole un po' sottile, la donna oscura, Agniacuro, fa notare che la luce è più forte e tramite la forza riesce ad usare l'ambiente naturale che lo circonda per rallentare l'or dei Sith. Questo è molto importante, perché c'era un contrasto che un po' forse nel canon si è perso, lo abbiamo ancora, Gribus, Darth Vader, più macchina che uomo, la tecnologia che distrugge la natura, però qui nell'Egents era molto forte, ovvero i Jedi tramite la forza sono un tutt'uno con la natura, e quindi la usano a loro favore, in qualche modo ciò che è naturale protegge la luce, mentre tutto ciò che è fabbricato, ma a ottenere a Darth Vader, serve il lato scuro, la tecnologia quindi oscura, e dall'altra parte la natura che è il bene, si crea questo connubio di immagini. Agniacuro, ahimè, sta per perdere, sta per soccompare, perché comunque Darth Vader è molto forte, ma c'è una scena per me bellissima di come lui la sconfigge, ovvero con la spada laser la manca, taglia un albero, recide il tronco, quindi vediamo questo rossastro che crea un connubio con l'ambiente comunque che è tutto scuro, grigio, poi con la forza tira giù quest'albero che è immenso e schiaccia la povera donna. Povera donna che però, esattamente come farà un anno dopo Bi-Wan Kenobi, riappare immediatamente come fantasma di forza. Dante e Darth Vader si ritrova davanti soltanto i panni di questa donna, gli indumenti, e qui è poco in continuità, perché se li ha già visti qui, perché un anno dopo è così scettico e così colto di sorpresa da quando vede gli indumenti di Obi-Wan Kenobi? Per l'appunto, non è canonico effettivamente, ai tempi lo era, ai tempi c'era Giorgio e Lucas Cannon, quindi tutto era canonico purché non andava in contrasto con i film, ciò non va in contrasto, è un po' strano ma non andava in contrasto, tuttavia lei gli riappare alle spalle e per l'appunto gli dice che Anakin Skywalker forse è stato seppellito, forse è lì sotto, forse potrebbe riemergere, ma al lato chiaro comunque è più forte del lato scuro. Darth Vader può far di tutto, può cercare in ogni modo di servire il suo signore, l'imperatore Palpatine, ma la luce, come i fiori in dia d'estinzione su questo pianeta, troveranno sempre un modo per tornare, perché la luce è più forte, la luce riesce ad illuminare un'intera stanza, se c'è buio ovunque e accende una piccola fiaccola, la fiaccola sarà più forte dell'oscurità. Questo è un altro simbolo che tra l'altro troviamo anche in Matthew Stover, la vendetta dei Sith, romanzo sempre Legends. Per concludere, la donna cerca ancora di convincere Darth Vader a lasciare l'oscurità e raccogliere Anakin Skywalker, che è lui che cerca di seppellire, ma Darth Vader, con un colpo di spada, colpisce il fantasma, non facendoli nulla, ma facendolo sparire. Quindi il fantasma di forza della donna oscura se ne va, mentre in quest'altra tavola lui si allontana, calpestando il fiore, simbolo sia di estinzione ma di risorgimento, e vede in lontananza, in questa sorta di cielo, un po' la Mufasa, come se immaginasse, vede Palpatine che ride, perché ha deciso di andare verso il lato scuro, ha deciso di calpestare Anakin Skywalker, che è lui quindi il bene, e di seguire di nuovo gli insegnamenti dell'imperatore, gli insegnamenti dell'ordo scuro dei Sith. Però lo sappiamo, nonostante ci sia quel fiore calpestato, sappiamo che anche Anakin dentro di sé è calpestato, ma che sono entrambi destinati a tornare, perché non sono estinti, perché sono ancora lì, come il fiore, come il Jedi, esattamente, il ritorno dello Jedi. Ma io spero che questa cosa vi abbia fatto appassionare a questo fumetto, a questo raccolto di volumi, noi vedremo ogni settimana uno di questi, perché sono interessanti, guardate le tavole, guardate i dettagli, guardate quanto sono belli. E anche, se è breve, perché è breve questa storia che vi ho raccontato, è più uno scontro, è più da vedere, è più da gustare, però guardate quanta simbologia. Secondo me basta poco per scrivere una storia di Star Wars, basta l'azione, basta un po' di simbologia, bastano due personaggi, in questo caso la Donna Oscura e Darth Vader, lì, l'uno davanti all'altro che si affrontano, e si è scritti bene, se ci sono dei dialoghi che delineano una storia semplice ma interessante, abbiamo tutto. Scrivimi qui sotto nei commenti se avevi già letto questa storia, se la conoscevi, se ti è piaciuta, e come sempre lascia un mi piace. Io sono Emilio Valotti del canale YouTube Unbounce, che la forza sia con te! Scriviti al canale YouTube Unbounce,